mamma sì tutto bene ho molto lavoro ma va bene certo che mangio no non ancora sì mamma dopo la riunione qualcosa la mangio sì mamma mangio riscopri il piacere del pranzo con il menù double cheeseburger e il nuovo menù double chicken bbq al prezzo consigliato di soli 4 euro e 90 a